Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, video post partita di Cagliari-Palermo terminata con la vittoria del nostro amato Castel, 2-1, vittoria sicuramente nel segno di Gianluca Lapadula. Ventesimo gol in questa stagione di Serie B per il capocannoniere del Cagliari, nonché capocannoniere della Serie B, veramente una vittoria nel segno del bomber del Cagliari in quanto quel gol, il gol del 2-1, se l'è andata a cercare, l'ha voluto fortemente, se l'è creata quella situazione e poi ha calciato magistralmente con il suo sinistro all'angolino battendo il portiere Rosanino. Una vittoria sicuramente sofferta, una vittoria che da un certo punto di vista possiamo definire non così meritata, nel senso che veramente è stato un Palermo che per 60 minuti ci ha messo in grossa difficoltà. Fino a quando il Palermo è rimasto in parità numerica sostanzialmente, prima dell'espulsione per doppia munizione, per somma, le munizioni di Marconi, del difensore Marconi, è stato un Palermo che ci ha messo sotto. È stato un Palermo che ha giocato secondo me meglio rispetto al Cagliari, faceva girare molto meglio il pallone, ha creato diverse situazioni interessanti, sia su palla inattiva, da cui è nato tra l'altro il gol del momentaneo a vantaggio rosanero di Segre, in cui sicuramente il Cagliari non era messo molto bene, con un Azzi abbastanza disattento, come capita spesso a livello difensivo, ma non soltanto lui ha commesso errori nel frangente, ma in generale un Palermo che ha creato delle situazioni veramente pericolose, con Radunovic che ha dovuto compiere diversi interventi, e altre situazioni comunque dove non sono riusciti a sfruttare magari la situazione i giocatori di Corini. Dall'altra parte è stato un Cagliari sicuramente che a livello di manovra, una manovra molto faraginosa, là davanti Pavoletti e Lapadura hanno visto secondo me pochi palloni e la dimostrazione di quanta fatica abbiamo fatto a livello chiaramente offensivo lo dimostra anche il gol del pareggio del Cagliari che è arrivata praticamente sugli sviluppi di un fallo laterale, disattenzione da parte del Palermo, quindi bravi sicuramente, furbi i nostri, in particolar modo Nandez a farti servire subito velocemente, a mettere il pallone dentro per l'inserimento del solito De Jola, insomma, che comunque a livello realizzativo anche quest'anno dà appunto il suo contributo. Verano Cagliari sicuramente che non ha giocato bene oggettivamente, un Palermo che fino a quando è rimasto in parità numerica ci ha messo parecchi pensieri là dietro, chiaro che poi l'espulsione di Marconi ha scombinato un po' le carte in tavola. È stato il classico episodio che in qualche modo è andato a creare proprio uno spartiacque nella partita perché a quel punto il Palermo si è un pochettino abbassato inevitabilmente, il Cagliari ha subito colto la palla al balzo e dopo praticamente poco meno di 10 minuti ha trovato appunto il gol di Lapadula, che ripeto è arrivato non in virtù di un'azione ben congenata da parte del Cagliari, è stato quasi un'azione di sfondamento, ecco potremmo definirla così, un'azione di sfondamento dove Lapadula è riuscito a crearsi lo spazio per andare a concludere e ha battuto veramente molto bene Pigliacelli. A quel punto è chiaro che il Cagliari ha avuto qualche situazione interessante per andare sul 3-1 anche se grossissime opportunità non ne ricordo, il Palermo non ne ha avute per pareggiare intendiamoci, però è chiaro che dal momento in cui il Cagliari è dato in vantaggio fino alla fine della partita siamo stati lì, diciamo un equilibrio che comunque poteva portare a un episodio e poteva portare il Palermo anche a pareggiarla. Quindi insomma una vittoria sicuramente importante, partiamo da questo presupposto che noi dovevamo vincere oggi, peccato che nel campo del Sud Tirol non sia arrivata appunto la notizia che tutti noi aspettavamo perché il Cittadella inizialmente stava vincendo, poi in realtà è stato appunto raggiunto dalla squadra di Bisoli che quindi ha conquistato un punto che in questo momento permette alla squadra appunto di Bisoli di rimanere quarta in classifica con un solo punto di vantaggio proprio su Cagliari e Parma. C'è però ancora l'ultima sfida, chiaramente l'ultima sfida che a questo punto diventa assolutamente decisiva, noi dovremmo fare il nostro dovere andando a Cosenza e cercare appunto di vincere, di conquistare tre punti sperando chiaramente che il Sud Tirol possa compiere un altro passo falso, a questo punto anche un pareggio potrebbe andare bene se il Cagliari riuscisse a vincere, in quel caso Modena Sud Tirol sarà appunto l'ultima sfida per la squadra di Bisoli. Ad ogni modo ragazzi sulla prestazione dei nostri ribadisco, una prestazione sicuramente dove mi sono piaciuti Nandez per il solito impegno, la solita negazione appunto dell'uruguaiano, merito per Nandez anche di aver trovato quell'assist per De Iola e qualche altra buona giocata, qualche buono spunto, specialmente nel primo tempo nel secondo tempo un po' meno. L'Adamanti come ho già detto, la Padula merita sicuramente una menzione particolare perché insomma comunque 20 gol in stagione non sono pochi ancora una volta ci mette lo zampino l'attaccante peruviano Pavoletti diciamo che ha dato comunque il suo contributo anche se dal punto di vista tecnico non è stato chiaramente molto efficace un Mancosu che ha corto tanto però ha sbagliato tanto anche tecnicamente ci aspettiamo sicuramente un po' più di precisione e lucidità almeno ci ha abituato chiaramente a questo Marcolino Mancosu un centrocampo che nel complesso ha corto tanto ma ha trovato delle difficoltà importanti secondo me appunto a strutturare comunque delle azioni ben congeniate merito sicuramente anche del Palermo indubbiamente è una difesa che secondo me ha ballato un po' troppo specie nel primo tempo comunque ragazzi contavano i tre punti contava vincere questa è la cosa più importante benissimo così ora in questa settimana lavoriamo bene per arrivare appunto a Cosenza Cagliari e conquistare i tre punti vedremo poi cosa farà appunto il Suttirol contro il Modena e a quel punto poi vedremo se come sembrerebbe ad oggi dovremo appunto giocare anche i preliminari se vogliamo chiamarli così appunto dei playoff o se potremo accedere direttamente alla semifinale questi comunque saranno discorsi che faremo fra una settimana anzi meno perché se non ricordo male giochiamo venerdì quindi fra 5-6 giorni insomma ci ritroveremo in un video post partita di Cosenza Cagliari a ragionare appunto di quello che sarà successo queste ragazzi sono le mie considerazioni chiaramente sul match di oggi fatemi sapere le vostre commentando qui sotto un bel pollice in su un'iscrizione al canale e ci vediamo presto con altri nuovi contenuti un saluto a tutti e ovviamente forza Casteldo sempre ciao ciao